Gian Giacomo Pol di Pezzoli aveva acquistato pizzi 5-6 centeschi e li utilizzava come ornamenti di divani e poltrone della sala nera e come copriletto nel suo maestoso letto intagliato alla metà dell'Ottocento da Giuseppe Ripamonti. Dopo la sua morte per quasi un secolo nessun merletto fu acquisito e solo nel 1959 giunse la prima donazione di due frammenti di barbe di produzione fiamminga del XVIII secolo. Le barbe sono bande di merletto poste a guarnizione della cuffia. Il generoso gesto fu il primo di una lunga serie che portò alla creazione della collezione museale odierna. Esposta in un armadio d'ante e cassetti apribili, questa raccolta documenta la grande varietà dei prodotti europei dal XVI al XIX secolo attraverso circa 850 manufatti, trapizzi e ricami. Merletto, pizzo e trina sono sinonimi con origini storiche e geografiche diverse e indicano un intreccio di filo, di cotone, lino, seta, oro o argento ottenuto con la tecnica del ricamo ma prodotto senza l'ausilio di alcun supporto. In base allo strumento utilizzato per realizzarli, i pizzi si definiscono adago, affuselli o meccanici. Questi ultimi furono introdotti con la rivoluzione industriale a partire quindi dall'ultimo quarto del XVIII secolo. Dalle sue origini, il pizzo è utilizzato nell'abbigliamento maschile e femminile e come decoro della biancheria domestica ed ecclesiastica. Le forme più antiche di manufatti, assimilabili al pizzo, risalgono all'antico Egitto. Ne è un esempio la retticella per capelli copta del IX secolo, conservata nel nostro museo. In età alto medievale, i merletti erano usati in tutto il mondo arabo ed è solo a partire dal XV secolo che questi delicati manufatti di origine medio orientale entrano in maniera determinante nella storia della moda europea e, in parte, nella sua economia. Inizialmente, i pizzi più pregiati venivano prodotti in Italia e nelle Fiandre, come testimoniano i primi inventari di corredi principeschi ed ecclesiastici risalenti al XV secolo. A questi paesi si affianca la Francia, che a partire dalla seconda metà del XVII secolo avvia manifatture di pizzi, servendosi di merlettaie veneziane e fiamminghe. Il barocco e il rococò segnano il trionfo dei pizzi con il loro uso sovrabbondante, spesso sostitutivo, dei gioielli della persona. Il merletto, quindi, nel XVIII secolo, assurge al ruolo di oggetto di lusso e di simbolo di una condizione sociale e la preziosità del pizzo è data dal valore del lavoro e non dal materiale che lo compone. Le prime notizie riguardanti il commercio dei pizzi veneziani risalgono alla seconda metà del Quattrocento. Nei secoli successivi, i merletti della Serenissima dominano incontrastati in tutta Europa e tra i più illustri committenti si ricordano Maria Tudor, Caterina de' Medici e Luigi XIV. L'uso sempre più diffuso di questi manufatti porta all'introduzione di nuovi motivi decorativi che circolano in libri detti modellari, pubblicati in grande numero, specialmente a Venezia, a partire dalla fine del XV secolo. La pratica del merletto, a differenza della tessitura, è di esclusivo appannaggio femminile. Essa nasce nell'ambiente aristocratico e alla sua affermazione contribuiscono le stesse dogaresse, tra queste Giovanna Malipiero Dandolo e Morosina Morosini Grimani, vissute tra il XV e il XVI secolo. Quest'ultima pare abbia istituito un laboratorio in cui vennero impiegate oltre 100 merlettaie. Nel corso del Cinquecento, con la crescente richiesta, ai piccoli laboratori delle case nobiliari si affiancarono quelli dei conventi, degli orfanotrofi e degli ospizi. Successivamente vengono organizzate produzioni su vasta scala, concentrate nelle isole. Burano è il più importante di questi centri per la produzione dei merletti ad ago, mentre Pellestrina lo è per quelli a fuselli. Questo frammento di pizza ad ago, appartenente alla collezione del Museo Pol di Pezzoli, rappresenta l'altissimo livello qualitativo raggiunto dai pizzi ad ago veneziani della seconda metà del XVII secolo. Su uno sfondo costituito da un intreccio di barrette semplici con pippiolini prodotti appunto asola o festone, si stagliano fiori e foglie caratterizzate da una ricerca della resa naturalistica ottenuta attraverso effetti tridimensionali e chiaroscurali. Lo spessore e la volumetria erano ottenuti utilizzando filati di spessori differenti o apposite imbottiture, mentre i chiaroscuri e la resa delle varie superfici erano dati dall'utilizzo di punti diversi, più o meno fitti, e da motivi decorativi differenziati. Il successo dei merletti barocchi veneziani fu decretato dalla corte di Luigi XIV agli inizi degli anni Sessanta del Seicento.